Ciao, con la nuova cucina arrivano anche le nuove ricette, questa ha soltanto tre ingredienti e dalla mia colazione dei campioni. Per prima cosa sbuccio le banane e le taglio a fettine e con un aiuto di una forchetta le riduco sostanzialmente in poltiglia, aggiungo poi il latte e la farina e amalgamo per bene in modo tale da ottenere un composto bello omogeneo. Passo poi ai fornelli dove in una padella ben calda metto un po' di burro e quando si è bello sciolto aggiungo circa la metà del composto che appunto divido in due per praticità. Per la cottura bastano due minuti per lato, ovviamente controllate che siano ben cotti, dipenderà anche dal vostro fornello in ogni caso. E voilà, ecco pronti i miei pancake alla banana per una vera colazione da campioni.